Il Campobasso si prepara all'avventura delle semifinali di andata in Sicilia. La squadra è partita nel primo pomeriggio di ieri per raggiungere Masca Lucia, comune poco distante da Catania, attraverso due tappe. La squadra si è allenata questa mattina in Calabria, esattamente a Vibo Valencia, dove i ragazzi di Farina hanno pernottato, prima di riprendere il lungo viaggio alla volta del centro etneo, laddove ci sarà la partita domani pomeriggio a partire dalle ore 15. Farina ha annunciato che giocherà comunque con una squadra a trazione anteriore, vale a dire con due punte, Lazzarini e Vitelli, supportate da due esterni offensivi come Palumbo e Cianci, tenuti precauzionalmente a riposo domenica contro la Life. Il cruccio del tecnico rosso-blu concerne il possibile costruttore di gioco della partita di domani pomeriggio. Mancherà infatti Fazio per squalifica, giocherà certamente Di Lallo al fianco di Pignataro, che domenica scorsa è stato arretrato sulla linea dei difensori. Formazione già scritta con la sicura affidabilità della difesa rosso-blu capitanata da Minadeo, collaborato da Scampamorte al centro e da Volpecine Scudieri sulle fasce. Una linea mai bucata nelle partite di Coppa a livello nazionale, solo tre volte nella cavalcata a livello regionale, culminata poi con la vittoria della manifestazione a scapito del Fornelli. Il Sampio X è quarto nel proprio campionato, eccellenza siciliana a girone B e vanta 47 punti. Viene dal successo interno ai danni del Via Grande per 2 a 1, mentre negli ottavi di Coppa, fase nazionale, i catanesi hanno tirato fuori i pugliesi del Casarano grazie a una rete, quella di Ricco Bono a Mascaluccia, che è stata sufficiente ai fini della qualificazione in virtù poi dello 0 a 0 del ritorno, in cui il Casarano ha anche fallito un calcio di rigore. La vincente di Catania Sampio Campobasso si scontrerà nella finalissima di Firenze del 2 aprile contro la vincente tra Ponzacco e Arzignano, gara 1 nelle Marche. Ricordiamo che la gara di domani si giocherà a porte chiuse per l'inagibilità dell'impianto di Mascaluccia. Gli intrepidi tifosi rosso-blu fanno spallucce di fronte a tale notizia e si metteranno ugualmente in viaggio alla volta della provincia di Catania per far sentire alla squadra la propria grossa voce. A partire dalle ore 15 Catania Sampio e Decimo Campobasso sarà diretta domani pomeriggio dal signor V Mercati di Cosenza.